Musica Appuntamento di metà settimana, è bello ritrovarvi anche oggi, grazie per essere in nostra compagnia. Iniziamo una nuova puntata di Angoli, come sempre ricca di argomenti, anche se il filo conduttore questa sera quale può essere? Beh, diciamo che ci dedichiamo alla stagione estiva, parliamo di luoghi molto belli dove la natura ha, diciamo così, un ruolo principale. Non vi ho aiutato molto, ma adesso seguitici che ve lo spiego bene. Nel senso che più tardi ritorneremo a parlare con il titolare dell'azienda, Garden Vedetti, ci ha promesso da diversi mercoledì che sarebbe ritornato, lo farà anche questa sera. Apriremo in compagnia del Fai Giovani Como, ve li presento tra pochissimo i due protagonisti, perché devo chiedervi, come sempre la cortesia, di segnarvi l'indirizzo e mail del nostro programma. Angoli, chioccio e l'espansione tv.it Ve lo ricordo perché vi diamo tanti appuntamenti, spesso non riusciamo a segnarceli, allora chiedeteceli all'indirizzo o magari date comunque il vostro contributo per fare sempre più bella la trasmissione. È arrivato il momento di, in realtà, dare il benvenuto, ma è un bel ritornato nel nostro studio, a due signori, due giovani signori. Stefano Moscatelli, ciao, ben ritrovato. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera a te, coordinatore del gruppo Fai Giovani Como, giusto? Giusto. Benone. Ritorno insieme a te anche Andrea Pozzoli. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Ricordo che sei uno dei soci fondatori del Fai Giovani di Como. Esatto. Perché ho detto ben ritornati? Perché di fatto ci eravamo visti un po' di mesi fa, no? Eravamo in prossimità del Natale. Sì, era dicembre. Il clima non è cambiato molto negli ultimi giorni. È vero, sono passati mesi ma poco è cambiato. No, dai. Oggi è migliorato, oggi è migliorato. E quindi all'epoca ci avevate raccontato un po' quella che è la realtà del Fai Giovani di Como, che noi vogliamo un po' ricordare ai nostri telespettatori, anche perché c'è un appuntamento imminente, ma andiamo per gradi. Fai Giovani di Como, per chi non ne sapesse niente, che cos'è? Il Fai Giovani di Como è un'associazione che si affianca alla delegazione dei gruppi Fai. Il Fai si occupa della salvaguardia dei beni naturali e culturali della nostra zona, in particolare di Como, ma in generale di tutto il territorio nazionale, da qualche anno si affiancano delle delegazioni di giovani che hanno il compito di avvicinare i giovani al mondo del Fai, al mondo quindi della cultura e dell'ambiente. Io lo so che a casa adesso stanno dicendo, va bene, giovani, ma quanto giovani? Nel senso, diamo un po' di limiti di età, tra virgolette, Andrea, visto che ne sei uno dei soci fondatori, chi può far parte del Fai Giovani? Quanto giovani? Allora, giovani, dai 18 ai 40 anni, noi consideriamo questi giovani, anche se con la barba poi non sembra, ma non sembra, però sì, e quindi noi speriamo sempre che ci contattino sempre i più giovani che vogliano partecipare, che vogliano informarsi sul territorio, sui nostri beni culturali e quindi cerchiamo sempre di fare delle iniziative che possano coinvolgere i giovani, quindi interessanti, divertenti, ma anche in magari location di un certo... Che sono quasi sempre mozzafiato, possiamo dirla tutta, perché effettivamente serve anche per avvicinare i giovani in questo caso, ma comunque tutte le persone che vogliono partecipare al mondo Fai, a quelle che sono delle perle del territorio, perché magari abbiamo anche qualche foto adesso dalla regia, si parla anche di eventi, questo riguarda praticamente quello di domenica? No, questo è quello che abbiamo fatto a ottobre, no, giusto, giusto, è quello che fa sarà domenica a Villa Balbianello, sembrava... Questa è Villa Balbianello, però abbiamo le foto, dopo arriveranno, ve lo diremo bene, di eventi passati, perché siete stati a San Galdiano, a Cantù, corretto? Basilica di San Vincenzo Galdiano. Benissimo, no? Giusto, errore mio. Siete stati a Villa Fogazzaro? Villa Fogazzaro, giusto. Dove? A Ottobre, a Oria di Valsolda, dove abbiamo fatto un evento che cercava di coinvolgere la vita dello scrittore Fogazzaro, che ha vissuto all'interno di questa villa e quindi abbiamo fatto anche lì, abbiamo organizzato un aperitivo sul Lungolago, a cui poi sono seguite delle letture di Piccolo Mondo Antico, il libro scritto da Fogazzaro. Quello che vedevamo, e vabbè, diciamolo subito, almeno poi si parte bene, ecco questa era, ecco, la regia mi sta facendo impazzire, ritorniamo al passato, questa è la Villa Fogazzaro. Fogazzaro, esatto, questa è la Basilica di San Vincenzo Galdiano, un evento natalizio dove a un altro racconto della Basilica millenaria e un concerto gospel, come si vede nelle immagini, è seguito un vin brulee per sdrammatizzare un po' la... Mi ricordo, perché eravate venuti a darci quell'appuntamento e proprio avevate sottolineato la presenza del vino. Beh, era l'aspetto principale, avvinava le due cose, ovviamente la Basilica appunto millenaria e favolosa ha un momento un po' più ludico con anche proprio il racconto della Basilica. Ma perché di fatto i vostri incontri sono questi? Cioè la parte sociale, divertente, si passa del tempo insieme, si mangia qualcosina anche che non fa mai male, però è finalizzato poi alla conoscenza di luoghi straordinari. Queste sono le sale interne di Villa Balbianello, quindi carta e penna da casa. Iniziate a segnarvi domenica 16 giugno, una notte alla villa a partire dalle ore 19. Abbiamo le foto della location, a voi il racconto di cosa avete organizzato. Dunque, vuoi raccontare tu? Ma sì, allora abbiamo organizzato ovviamente una visita guidata all'interno della villa, che è una delle location più belle del lago, dove sono stati anche girati dei colossal di Hollywood, quindi sicuramente molto bella. E però ovviamente con un aspetto sempre un po' più divertente, con un aperitivo e questo allietato tutto sempre della buona musica e quindi ci sarà un gruppo che suonerà dello swing e della musica a tema. Crediamo che possa essere interessante. Il luogo ci aiuta molto. Insomma, la vostra, questa è la locandina, una notte alla villa per domenica 16, a partire dalle ore 19, tra l'altro valgono i siti internet, perché se si vogliono avere maggiori informazioni possono partecipare le persone che sono già all'interno del Fai Giovani, ma anche chi si vuole avvicinare, giusto? Certo, sì, tra l'altro l'occasione per iscriversi al Fai Giovani, queste sono le migliori occasioni perché ci sono delle convenzioni per proprio questi eventi particolari. E allora noi diamo i riferimenti che sono www.fondoambiente.it, questo è il sito, comunque lo ricordiamo, quello nazionale del Fai, no? Poi all'interno è semplice arrivare alle delegazioni comasche comunque, oppure, visto che Fai Giovani, più giovani di quelli che utilizzano Facebook, dove andiamo? Su che pagina? Sulla pagina Fai Giovani Como, dove trovate, dove potete scriverci anche in privato e avere tutte le informazioni di cui avete bisogno. Ci sono ancora posti? Noi stiamo andando bene, però qualche posto c'è ancora. Chi vuole iscriversi, chi vuole contattarci, comunque sono sempre ben accetti, anche perché poi dopo abbiamo anche in programma delle altre iniziative future, per cui non va mai perso niente. Allora, visto che serve anche per avvicinarsi e, se volete, poi entrare nel mondo del Fai Giovani, diamo un po' una spiegazione a chi ci sta guardando. I giovani tra i 18 e i 40 anni che ci stanno guardando, insomma, visto che voi ne siete dentro, addirittura Andrea è uno dei soci fondatori, tu sei coordinatore. Perché avvicinarsi a questa realtà? Ma perché innanzitutto si possono incontrare delle persone con cui si ha una certa attinenza per quelli che sono gli interessi propri, l'interesse per il proprio territorio, l'interesse per la cultura, l'interesse per la storia. Questo è sicuramente l'aspetto fondamentale. Al Fai Giovani, perché poi il Fai Giovani regala delle esperienze che sono uniche, perché certo, Villa Balbianello è normalmente, quotidianamente aperta per delle visite normali, tra virgolette. Queste situazioni invece creano delle occasioni particolari, un aperitivo nel centro della villa con una visita aperta, serale. È un'esperienza unica. Così come a Galliano, quando mi ha fatto un concerto gospel col Vimbrulè all'esterno... Beh, ma lì c'era il Vimbrulè. Sono tutte esperienze utili che servono per veramente vivere realmente questi spazi, che oggi sono delle sorte di musei, ma in realtà sono degli spazi molto vivibili. Ad oggi quanti siete all'interno del Fai Giovani? Ad oggi siamo circa una decina e infatti speriamo sempre che si avvicini sempre più persone, perché l'organizzazione poi di questi eventi non è semplice. Diciamo che anche qui ci aspettiamo che possano venire almeno 150 persone, quindi riuscire anche ad accogliere tutti, a far sentire tutti a casa non è facile e quindi più siamo anche noi a supportarci, meglio è. Quindi estendiamo l'invito a chiunque voglia poi entrare in contatto con noi, con le cose che facciamo. Ho sentito che hai tirato un sospirone. Sì, no, perché noi non siamo organizzatori di eventi, di tutti gli effetti, noi facciamo altri mestieri nella vita e questo è tutto volontariato che noi facciamo per tutto il territorio. Quindi chi ci vuole anche contattare per aiutarci è assolutamente benvenuto come volontario e farà qualcosa per il suo territorio. E allora lo ricordo ancora una volta www.fondoambiente.it, sito di riferimento questo deve valere come faro guida per andare a cercare comunque quelli che sono i contatti della delegazione Comasca, pagina Facebook Fai Giovani Como, voi inserite questo, arrivate comunque a loro, anche per sapere di più su Domenica 16 perché comunque non dimentichiamoci che c'è questa bellissima serata. Voi personalmente siete già stati a Villa Balbianello? Assolutamente sì. Eh sì, anche perché immagini che sopra luoghi adesso per il... Sopra luoghi, sì sì, bisogna capire un po'. No, io lo dico perché vabbè, io lo ammetto, non ci sono mai stata ed è una grande pecca per una Comasca. Allora ti aspettiamo. È uno dei posti più belli del lago, bisogna assolutamente conoscerlo e conoscerlo dall'interno. Volevo uno spottino che non ne ha bisogno, Villa Balbianello, però fatemi un po' sognare che con me poi anche chi non c'è stato ed è all'ascolto. Allora, il lago di Como già di per sé è un posto unico con degli spazi veramente incredibili. Quindi la Villa Balbianello è una delle pietre più belle del lago, uno dei beni più importanti del FAI a livello nazionale e quindi assolutamente, avete anche visto le foto, se non vi evitano quelle, credo che le immagini parlino meglio di qualunque descrizione. Assolutamente. Anche perché la Villa è su una propria punta del lago solitaria, ha dietro quello che è comunque un parco secolare anche botanico con diverse tipologie di piante. È raggiungibile in realtà in due modi, la sera del nostro evento sarà raggiungibile solo tramite imbarcazione, quindi si troverà a trovare a Lenno per poi organizzarsi e andare alla Villa. In alcune occasioni è anche aperta una strada che è proprio parte dalla zona dell'Ido di Lenno più o meno e fa tutto il percorso all'interno del parco per arrivare alla Villa che ha anche dei giardini fantastici e straordinari. Allora, tutte le informazioni anche sul trasporto si trovano comunque sui siti che abbiamo dato. Assolutamente. Anche perché dobbiamo salutarci, però mi avete convinto. Bene, ti aspettiamo allora. Ok, va bene. E allora io ringrazio i nostri rappresentanti del Fai Giovani di Como, Stefano Moscatelli grazie. Grazie a te. E grazie ad Andrea Pozzoli. Grazie a te, a tutti. E allora noi ci dobbiamo interrompere dopo aver viaggiato idealmente alla Villa del Babbianello, pochi istanti di pubblicità e tra pochissimo di nuovo insieme.